Siamo sulla terrazza del nuovo comune di Calenzano, guardate che panorama e che spettacolo che abbiamo. Ecco, da qui, tempo permettendo, altrimenti dalla sala congressi del comune di Calenzano, venerdì 31 maggio alle ore 17 trasmetteremo la puntata tradizionale del tè del venerdì, la prima puntata che esce fuori dai confini di Sesto Fiorentino. Per cui seguiteci venerdì 31 maggio alle ore 17 col tè del venerdì da Calenzano.